I miei amici 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 E per qual motivo? Perché sono un ebreo Ma non ho un ebreo Non ha un ebreo Ma Medi Senzi Affetti Passione Non si muove Degli stessi cibi Non è ferito Dalle stesse armi Non è agghiacciato O riscattato Dalle stesse estati O dagli stessi inverni Come noi o cristiani E se ci ferite Non facciamo E se ci fanno i soletti Noi Moriamo E se c'è bene Non moriamo Immaginate un mondo Dove tutti gli uomini Si tengono le mani Un mondo Senza distinzioni sociali Un mondo Dove non esistava Un mondo Immaginato Un mondo Un mondo Un mondo Un mondo Un mondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.